Sì, la vittoria è sempre importante. Poi è arrivato in un momento giusto. La squadra, secondo me, abbiamo sempre giocato bene, però il risultato non stava arrivando. Poi la partita che abbiamo giocato, non so, un pochettino, non dico male, ma un po' peggio delle altre partite, abbiamo il risultato. Poi è importante quel punto niente, il punto della vittoria è sempre importante. È una posizione nuova per me. Io ho giocato da tre quartisti, però penso che sia un po' diverso da la posizione adesso. Però è una cosa nuova, ci serve un po' di tempo per provare, per abituarsi nel ruolo, però mi trovo bene. Posso fare bene, posso fare bene nella posizione, penso. Sempre vittoria nella porta, ancora non ho segnato, però a partita sto provando il massimo. Quando non ho segnato, magari fai un asso, quindi posso aiutare sempre la squadra. E la posizione è difficile, diciamo, perché ho giocato da tre quartisti e sempre un po' la posizione. Quando sono arrivato, sì, perché avevo già un pochettino, stavo senza giocare. Però adesso non so che sto molto meglio nel punto fisico. Abbiamo fatto dei test, ho migliorato personalmente. Adesso mi sento molto meno. Di cosa penso io possiamo fare bene, no? Dico a soltanto tranquillo, non so. Perché sono tutti partiti difficili, no? Però penso che, come stiamo giocando, stiamo crescendo molto. Secondo me adesso cominciano a valere qualche vittoria, possiamo fare i punti. Anche fuori di casa, già abbiamo fatto i punti fuori di casa, però abbiamo cresciuto molto. Possiamo fare bene, diciamo così, dai. Grazie.